E si parte, insomma, Sanfuglia, Sanmaurese, primo taglione del processo del guerriero, palla lunga di Maglitz, Bonandi, sembra proprio Borini, potrebbe mettere il cross, lo mette adesso trucco di Bonanni, in anticipo su Fizza, lì per le palla di Marivane a terra, recuperata da Cominetti, passa proprio davanti a Ostoni, Cominetto contro il 2, Cominetti, prova, inizia a vento, adorni a terra, finisce a terra, non viene rischiato a paglia, si consegue allora, Cominetti, Cominetti può puntare Benedetti, l'esterno però a Ostoni, a Ostoni rientra con il destro, palla che non si abbassa, termina a seconda, Paudet, Marivy, Alda, Migani, e poi Cervi sta in profondità, Cominetti, Cominetti, si va a sedioli, con il... Greco, ha anche il campo per Bernardini, Bernardini può puntare Borini, arriva sul fondo Bernardini, la mette in giù, per Borini, l'applauso comunque, con Campanini è determinato, ha voluto un po' di prendere la palla intanto, Greco, salito Bernardini, Bernardini punta Borini, scendolo sul spazio, Cominetti, Ancora Cominetti prova il tiro, in due punti, buona sono quella ripartenza del pancola, Bonandi, arriva Scalcone in sovrapposizione, Bonandi, prova il tiro, centrale, leggole, perfetta, perfetto, Merlonghi, quella con Bignani, cerca qualcosa, prova un buon prossimo, qui arriva Giannini, Ancora Bignani, altro tocco sotto, stavolta per Cominetti, Cominetti per Greco, Greco può puntare sedioli, vince il ripallo Greco, rientra sul destro Greco, come conosco, prende solo il fischio, arriva adesso, che tanto c'è di per questo secondo tempo, non più le sono rete, non probabilità, cercare Austoni, arriva Cominetti, chiede palla Brugnoli, non è bene Cominetti, Brugnoli, la palla scivola, riesce comunque a conquistarlo, messa a mezzo, su un secondo palo, salta Maldi, applausi, applausi, anticipo su Giannini, Giannini riesce a toccarla, salmendo involontariamente Cominetti, Cominetti, è attaccato da Beniverti, Cominetti, si, era bene Cominetti, c'è Greco, può accalciare Greco, perde però il passo momento del tiro, rientra Giannini, parte la conclusione di Brugnoli, 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 comunque Bonangi, che rientra sul sinistro, va a partire il tiro, e Brugnoli, non c'è problema per questo, palla di Bolognoli, profondità, cercare Meruoni, Meruoni, prova a girarsi, ripiega Benebagi, colpo di tacco di Meruoni, e poi Pernadu Cominetti, in diagonale, finito la conseguenza con una prima squadra, perché soltanto si è collegato, Cominetti, Cominetti, può calciare e sono due, arriva Brugnoli, balla messa in mezzo, vai via, Bolognesi, ottimo il croldi di Cominetti, Palla messa in mezzo, intanto da Scarponi, la palla che rimane lì, non viene fischiatto nessun pallo, e c'è il gol, c'è il gol, era il vicinato per i crampi o magli, il popolo è ripartito però, non c'è ancora il gioco solo a farla via, Agnelli perde Carli, De Carli, Sergio Garcia, la chiude!